bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video contest io sono xyuder allora amore mio ce l'hanno fatta finalmente porca porca quanto mancava era un po di giorni che non ce la facevano erano gli mettiamo qua il microfono così almeno ci sennò deve urlare erano almeno quattro giorni che non facevamo un contest ragazzi quindi oggi finalmente siamo felici di annunciare il contest numero 25 ragazzi contest importantissimo 250 euro regalati in buoni da 10 euro a 25 di voi fortunati allora la pomi vi spiega come funziona allora innanzitutto dovete mettere il mi piace poi dovete scrivere la parola che vi diremo tra poco e poi al momento dell'estrazione dovete essere presenti in live e commentare con la vostra email esatto mi raccomando ragazzi presenti alle ore 22 tutti i live per l'estrazione la parola d'ordine voglio la stagione numero 5 voglio la stagione 5 5 uguale no voglio la stagione 5 raga 5 togliete numero mettete 5 voglio la stagione 5 vale solo un commento e mi sono dimenticata un commento quelli doppi non verranno calcolati ragazzi beh ragazzi qual video finisce un bel pollicione in su iscrivetevi al canale ci vediamo in live ciao ciao